Mettete in sicurezza quella posizione! Gassi in arrivo! Alla nuova zona sicura! Ne mancano dieci! Insisti! Obiettivo principale raggiunto! Informazioni tattiche in sicurezza! Gassi in arrivo! 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 Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura. Gassi in arrivo, spostamento della zona sicura, spostamento della zona sicura. Operativo a capo, serve una ricognizione. Qui Jaguar 3-0, confermato, battugliamento UAV iniziato. Attenzione, UAV in rientro. Gassi in arrivo, nuova zona sicura, contrassegnata. Dovete eliminare tutti i nemici di basti. Vittoria! Non c'era stata per nessuno, ben fatto. Ancora, sentosine. Vittoria! 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 Grazie per la visione!